Attenzione Montolivo ruba palla, Montolivo fuori, anzi gol, sembrava fuori invece gol sembrava aver toccato il palo dietro la porta, invece la palla è dentro, il gol dell'ex Montolivo Dobbiamo per dovere di cronaca dire che il gol di Montolivo è davvero bello perché oltre ad ingannare il portiere Viviano non dare scampo all'estremo difensore giudato ha messo in difficoltà anche noi, avevamo valutato fuori il tiro di Montolivo Sì, io l'avevo visto poi perché ho visto il paletto dietro la porta Paletto dietro la porta, sembrava proprio che il pallone avesse accarezzato l'esterno della rete e fosse finito poi sul paletto dietro invece poi abbiamo visto il pallone che era dentro il sacco, una conclusione davvero quasi da biliardo quella di Montolivo perché credo che abbia proprio sfiorato il palo interno di pochissimi millimetri, forse l'ho addirittura toccato